buongiorno buongiorno a tutti a tutte e benvenuti a questo nuovo webinar di arc scuola magari c'è ancora qualcuno di voi che sta cercando di collegarsi e entrerà in corsa durante il webinar io inizio con calma con le presentazioni con l'introduzione così se arriva ancora qualcuno fra qualche minuto non si è perso nulla inizio a presentarvi il mondo di arc scuola all'interno del quale è inserito anche il webinar che state vedendo oggi come potete vedere le attività che vengono proposte da scuola per scuole di ogni ordine grado sono tantissime sono molto variegate quindi abbiamo sì i webinar che non so se avete già seguito tra l'altro se questo è il primo e se ne seguirete altri però come potete vedere ci sono tantissime altre attività ci sono kit didattici e multimediali che possono essere scaricati dal sito è proprio in questi giorni fino alla fine di ottobre è aperta l'iscrizione per cancro di tiboccio è una di queste proposte di arc scuola tramite la quale potete diventare veri e propri protagonisti della ricerca e della raccolta fondi perché potete candidare la vostra scuola potete partecipare con la vostra scuola con la vostra scuola alla distribuzione dell'arancio della salute del miele e della marmellata quindi se volete partecipare attivamente e essere parte in prima persona del mondo di di arc vi invito appunto a andare sul sito e compilare il form di iscrizione che sarà disponibile sul sul sito appunto gli altri progetti sono tantissimi meriterebbero tanto spazio per essere presentati per non perdervi nessun aggiornamento nessuna attività vi invito a iscrivervi alla newsletter come potete vedere qua in alto per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessuna attività in cui potreste essere coinvolti con la vostra classe la vostra scuola detto questo fate le presentazioni di arc del mondo di arc scuola mi presento io e poi chiedo anche a voi se volete di presentarvi so che siete classi di scuole diverse e provenite da zone diverse dell'italia quindi se avete voglia di scriverci in chat da dove venite che classe siete che scuola siete mi fa molto piacere così rompiamo un po il ghiaccio e iniziamo a conoscerci mentre voi prendete coraggio e scrivete dentro la chat i primi saluti direi che mi presento quindi inizio a raccontarvi chi sono e di che cosa parleremo oggi io mi chiamo Federica Giraudo e sono una divulgatrice scientifica della fondazione AIRC quindi non sono ricercatrice ma mi occupo proprio di divulgazione di raccontare la scienza quello di cui parleremo oggi è un argomento che ha molto a che fare con il mondo scientifico perché parleremo di metodo scientifico e cercheremo di metterci proprio nei panni di uno scienziato di un ricercatore che cerca di fare una scoperta insomma di arrivare ad ottenere un risultato intanto vedo di qua lo schermo con la chat vedo che ci salutano dalla seconda di della scuola media galilei di vicenza quindi un saluto nella seconda di e anche la classe terza di di prato quindi come vi dicevo siete sparsi provenite da tutta italia io personalmente sono a torino quindi vediamo se riusciamo a completare tutte le regioni se ci sono iscritti da tutte le regioni c'è anche la classe prima c della scuola secondaria di primo grado vidoletti di varese quindi un saluto anche alla prima c se volete continuare a scrivere a salutarci io ogni tanto giro la testa e leggero la chat la chat ovviamente potete usarla in questa in questo primo momento per presentarvi e per salutare anche i vostri compagni che sono in altre scuole però ovviamente rimarrà disponibile per tutta la durata del nostro webinar e dentro al chat vi invito a fare domande a scrivere se avete qualche curiosità oppure a scriverci se c'è qualcosa che non è chiaro in questo modo di ogni tanto do una sbirciata alla chat e se c'è qualche domanda rispondo cerco di rispondervi intanto c'è anche la seconda è che ci saluta da pascoli di aprilia vicino a latina quindi abbiamo un bel un folto pubblico direi che possiamo cominciare con il nostro argomento parliamo quindi di metodo scientifico scopriremo man mano durante questo webinar che cosa significa metodo scientifico come si applica quali sono le varie fasi però come vedete il titolo è nei panni dello scienziato quindi prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo provare ad entrare nei panni dello scienziato dobbiamo cercare di capire chi sono questi scienziati ricercatori di cui parleremo durante questa oretta che passeremo insieme per farlo vi chiedo di collegarvi a un'altra piattaforma quindi se avete a disposizione un telefono cellulare un tablet o un qualsiasi altro dispositivo vi chiedo di aprire la pagina caout.it perché così giochiamo insieme su caout io adesso ve lo condivido se avete un telefono a testa è un vantaggio diciamo perché ci saranno diverse domande in cui dovete in realtà condividere la vostra opinione quindi dovete proprio scrivere dovete darci le vostre idee le vostre opinioni quindi se vi collegate singolarmente abbiamo una folta schiera di idee da da prendere in considerazione altrimenti in base alle vostre connessioni in base al numero di telefoni che avete in classe organizzatevi in quel modo quello che dovete fare comunque con il dispositivo che decidete di usare e andare sulla piattaforma www.caout.it e inserire il pin di gioco che tra l'altro esatto è arrivato anche in chat e iscrivervi come ha fatto la prima f ad esempio vi chiedo di iscrivervi soprattutto se lo fate singolarmente di non utilizzare nome e cognome il nome va benissimo altrimenti anche un nickname quindi non lo so scienziato pazzo seconda di potrebbe essere un'idea di nickname che potete usare per questioni di privacy appunto vi chiedo di non usare nome e cognome interi però potete anche potete anche usare la la fantasia quindi se volete usare un nickname a tema scienze scienziati benvenga intanto vedo che ci salutano anche dalla prima e di cagliari quindi vedete che pian piano stiamo andando a completare le varie regioni terza c di pomiglia pomigliano d'arco in provincia di napoli che ci saluta e anche dalla prima b sempre di cagliari quindi sono sono molto contenta che che stiano arrivando i saluti avete rotto il ghiaccio così adesso ci conosciamo e possiamo possiamo chiacchierare proprio come se ci conoscessimo ci vedessimo di persona quindi vi ricordo di usare un nickname eventualmente solo il nome non nome cognome e vi do un po di tempo per per collegarvi il pin rimarrà sempre visibile in chat quindi ce l'avete sempre sott'occhio e soprattutto rimarrà visibile sulla schermata di caout durante tutta l'attività credo che in realtà caout l'abbiate già usato probabilmente in questo anno e mezzo di pandemia abbiate già avuto occasione di utilizzarlo magari in classe o in qualche altra attività però insomma per chi non l'ha non l'ha mai usato sappiate che il pin rimarrà visibile in basso a destra quindi in qualsiasi momento potete decidere di unirvi al al quiz se vi scollegate se la vostra rete non è particolarmente stabile e uscite dal dal sito non vi preoccupate che potete rientrare in qualsiasi momento ok abbiamo 17 partecipanti aspetto ancora un paio di minuti anzi un minuto e poi direi che possiamo cominciare la prima domanda ve l'anticipo così entriamo già nel nel clima vi chiederà anche qui non c'è una risposta giusta o sbagliata nella prima domanda quindi potete stare tranquilli e rilassati vi chiederà qual è l'immagine che voi avete dello scienziato quindi come vi immaginate uno scienziato o una scienziata ovviamente quindi potete rispondere pensando sia come ve lo immaginate fisicamente sia rispondendo magari facendo tenendo conto dell'ambiente in cui lavora quindi voi mi dite me lo immagino all'interno di un laboratorio oppure potete anche scrivermi come ve lo immaginate quale materia studia magari quindi secondo me uno scienziato è una persona che studia questa determinata disciplina quindi potete proprio sbizzarrirvi non c'è appunto una risposta giusta quindi vediamo qual è nell'immaginario comune l'idea che ci viene in mente di scienziato quando sentiamo questa parola ok vedo che i numeri si sono stabilizzati quindi possiamo iniziare tranquilli che appunto in ogni momento potete potete rientrare ok quindi diamo il via a questo caut la prima domanda sarà un una sorta di brainstorming quindi avrete a disposizione abbastanza un po di caratteri da digitare e soprattutto potete inviare tre risposte diverse quindi se volete aggiungere qualcosa alla risposta che avete appena mandato potete inviarne una seconda e poi anche una terza avete un minuto e mezzo a disposizione quindi so che se vi siete soprattutto collegati come classe ci sarà un po di tempo che deve essere impiegato per raccogliere le idee e decidere cosa scrivere però insomma sappiate che avete un po di tempo a disposizione e sappiate che c'è sempre la chat a disposizione quindi se volete integrare le vostre risposte se volete aggiungere qualcosa lo potete fare tramite chat allora vedo che non arrivano risposte intanto controllo anche io su caut se tutto funziona bene vi dovrebbero comparire ok perfetto due risposte sono arrivate vi dovrebbero proprio comparire dei dei box all'interno del quale scrivere le risposte avete ancora 30 secondi a disposizione forse sono stata un po cattiva con il tempo che che vi ho dato però appunto se poi volete aggiungere qualcosa potete farlo anche tramite chat intanto vedo che ci saluta anche la prima b di senigallia quindi un saluto anche alla prima b un po di risposte sono arrivate come potete vedere il pin di gioco è sempre visibile qua sotto quindi tranquilli che in ogni caso riuscite a partecipare ok e ora vediamo un po stiamo riordinando le idee vediamo un po che cosa è uscito intanto mi libero lo schermo così ok è una persona molto curiosa ho letto una donna in camice che mischia fialette quindi a tendenzialmente qualcosa in mano e con del liquido che di solito nei film ha un colore fluorescente e che fa le bolle e viene mischiato giustamente come mi dite voi studioso capelli scombinati intelligente pieno di idee è una persona curiosa e a curiosità occhiali e camice camicia immagino appunto i camici sia un immaginario abbastanza comune pelato quindi ai noi c'è qualche ricercatore a cui abbiamo fatto perdere i capelli una persona intelligente che si mette alla prova di età magari un po più grande rispetto forse a me come immaginario io immagino molto grande con un camice bianco molto interessante quindi magari una persona che anche tanto da raccontare che studia con la giacca camice bianco e basta speriamo che abbia qualcos'altro sotto il camice bianco il nostro ricercatore alla ricerca di nove di nuove cose quindi una persona curiosa persona con il camice capelli in aria e gli occhiali intelligente pazzo ingegnoso una persona con capelli strani e con le fialette una persona che studia che sperimenta un uomo che respira giustamente potrebbe essere un requisito fondamentale camice bianco facendo esperimenti pericolosi ok quindi devo dire che effettivamente l'immaginario comune dello scienziato non è tanto distante dalla slide che vi ho messo subito qua col camice l'abbiamo abbiamo capito il camice è essenziale per gli scienziati per i ricercatori e per chi studia nell'ambito delle discipline scientifiche vedremo in realtà che ci sono anche delle altre divise fra virgolette delle altre tenute da lavoro che vanno benissimo qualche un po operato quindi qua effettivamente c'è un povero scienziato che ha un po di calvizie uomo donna avete scritto che non deve essere per forza uomo ma ci sono anche delle donne con le fialette direi che le fialette ci sono qualcuno che studia ingegnoso quindi magari questo teorico qua che sta scrivendo alla lavagna vi è venuto vi è venuto in mente quindi direi che nell'immaginario comune questa ho azzeccato senza sapere anche le vostre senza sapere le vostre discoste ma ho indovinato quello che può essere l'immaginario dello scienziato quello però su cui adesso vorrei farvi riflettere che effettivamente ci sono tantissime discipline scientifiche e non per forza i scienziati che lavorano in queste discipline scientifiche hanno questa questo aspetto qua anche perché quando parliamo di scienziati ci immaginiamo giustamente come vi ho detto voi delle persone che lavorano in laboratorio con liquidi che vengono mischiati anche sostanze pericolose però ci sono tantissime discipline che in realtà non prevedono di stare in laboratorio tra l'altro e di utilizzare liquidi quindi adesso metto un po alla prova la vostra conoscenza delle discipline scientifiche e qua saltiamo la votazione non votiamo la la risposta più che ci piace di più perché erano tutte super interessanti qua compariranno delle dei punti a un certo punto per chi risponderà più velocemente ma non ci interessa particolarmente la classifica qui parliamo di quindi quali sono le discipline scientifiche cosa fanno gli scienziati che lavorano nel campo dell'astronomia dell'ecologia della geologia e dell'etologia alcune scommetto che le avete già sentite alcune discipline altre forse no quello che vi chiedo è di abbinare di mettere in sequenza secondo questa sequenza qua che avete indicato nel nell'immagine associare insomma la descrizione delle varie discipline alla disciplina quindi astronomia prendete il quadrato che secondo voi anzi il rettangolo che secondo voi ha la definizione di una persona che studia astronomia del campo dell'astronomia e lo trascinate in prima posizione ecologia prendete rettangolo che secondo voi definizione di ecologia e lo mettete in seconda posizione e così via poi magari se volete in chat mi dite anche quali discipline conoscevate di queste quali no cosa vi suona nuovo e cosa invece vi sembrava già scontato quando l'avete letto vi lascio qualche secondo di silenzio per riflettere senza la mia voce e poi andiamo a vedere le risposte e mancano dieci secondi vedo che adesso le risposte sono arrivate tutte ma perché giustamente prima vi chiedevo di ragionare e di darmi le vostre idee quindi ci avete probabilmente messo un po di più allora vediamo un po qua ci dà la percentuale di abbinamenti corretti questo cosa vuol dire vuol dire che il 38 per cento di di voi ha abbinato tutte e quattro le discipline correttamente se per caso venne sfuggita una avete sbagliato qualcosa non si è non rientrate nella nella percentuale del 38 per cento quindi probabilmente ci sono più abbinamenti corretti di questa percentuale però calcola solo quelli che hanno azzeccato tutte quante andiamo a vedere quali erano le le associazioni corrette astronomia astronomia come mi avete come avete detto come ha detto il 38 per cento di voi è la disciplina scientifica che si occupa di studiare quello che succede oltre al nostro pianeta quindi nell'universo si occupa dell'osservazione di astri di pianeti di meteoriti e di tutto quello che sta all'esterno del nostro pianeta ed è una disciplina importantissima per capire anche per cercare di capire come si è formato l'universo e da dove da dove veniamo e quindi una una disciplina scientifica che si pone domande abbastanza importanti quindi astronomia astro il il prefisso astro ci dava un po l'idea di quella che poteva essere la risposta giusta poi avevamo ecologia ed etologia che sono due discipline che hanno un nome molto simile che però si riferiscono a due campi diversi l'ecologia non so se magari avete studiata a scuola soprattutto adesso che si parla tantissimo di cambiamento climatico e di riscaldamento globale l'ecologia è importantissima perché perché la scienza che studia le relazioni fra noi esseri umani ma anche tutti gli altri organismi viventi animali e vegetali e l'ambiente in cui viviamo quindi cerca di capire quali sono le relazioni e ad esempio cerca di capire come la presenza di una determinata specie ad esempio possa influenzare l'ambiente in cui vive e ovviamente viceversa quindi è una disciplina importantissima soprattutto in questo in questo momento quindi forse l'avete questa l'avevate sentita da qualche parte l'etologia invece che ha un nome molto simile e la disciplina scientifica che si occupa di studiare il comportamento animale quindi siamo sempre nell'ambito del mondo animale nel mondo della natura e infine abbiamo la geologia che anche qui come ci suggerisce il nome si occupa di studiare la terra e soprattutto la crossa terrestre quindi lo strato più esterno della terra quello con cui noi siamo direttamente a contatto tutti i giorni e cerca di capirne la composizione l'evoluzione e come si è modificata nel corso del tempo e anche qui è importantissimo perché ci dà molte informazioni su come si è formato il nostro pianeta quali sono state le varie aeree che si sono susseguite durante durante il tempo in cui è stato in vita e invita al nostro pianeta quindi come vedete queste sono discipline scientifiche ci sono scienziati ricercatori che lavorano in questo campo però secondo me non tutti i ricercatori che lavorano in queste discipline stanno in laboratorio con il camice anzi è importantissimo che stiano direttamente sul campo quindi forse stare in mezzo alla natura col camice non è neanche così comodo e potrebbe non essere l'abbigliamento più adatto però insomma scienziati fanno parte degli scienziati anche quelli che non stanno per forza in laboratorio a mischiare provette mischiare liquidi ma sono anche scienziati che vanno ad esempio nei parchi nazionali questo qua è un parco nazionale americano bellissimo e vanno a studiare la stratificazione delle rocce quindi la nostra visione di scienziato cambia anche conoscendo le varie discipline che possono essere considerate scientifiche ma visto che abbiamo così tanti scienziati diversi che lavorano e studiano discipline diverse da che cosa sono accomunati perché tutte queste possono essere definite discipline scientifiche e otteniamo i dati scientifici da da queste dalle domande che si pongono questi ricercatori tutte queste discipline sono collegate sono si collegate dal metodo scientifico quindi il metodo scientifico e la modalità attraverso le quali attraverso la quale i dati vengono raccolti vengono analizzati sperimentati e si cerca di capire l'origine di un fenomeno e il metodo prevede che vengono utilizzate diverse diversi step diverse fasi che devono essere rispettate per ottenere un risultato che può essere considerato scientifico quindi noi andremo a vederlo secondo questa concezione qua quindi andremo a vedere quali sono proprio le fasi che devono essere seguite durante un che segue anzi un ricercatore quando vuole trovare una risposta a una domanda e questi step devono essere seguiti se la risposta che si ottiene vuole essere considerata scientifica e condivisa con il resto della comunità scientifica quindi andremo proprio alla scoperta del metodo scientifico in tutte le sue fasi visto però che parliamo di metodo scientifico ritorniamo su caout e vi faccio un'ulteriore domanda intanto controllo la chat così se ci sono domande su questa parte io rispondo molto volentieri altrimenti appunto continuiamo su caout perché vi voglio chiedere secondo voi con quale personaggio con quale scienziato si inizia a parlare di metodo scientifico perché effettivamente c'è stato un po una mutazione un cambiamento durante gli anni su come veniva concepito appunto il risultato scientifico quindi ritorniamo su caout e facciamo i complimenti al 38 per cento che le indovinate tutte ma anche a tutti gli altri che ne sapevano almeno un paio quindi complimenti e andiamo direttamente qua c'era di nuovo la slide andiamo al prossimo quiz quindi chi introduce per primo il metodo scientifico c'è stato un personaggio tra questi quattro che vedete che probabilmente conoscete perché avete risposto velocissimi che per primo ha introdotto il metodo scientifico che introduce formalmente il metodo scientifico può essere aristotele leonardo da vinci galileo galilei o einstein credo che bene o male abbiate già sentito nominare perlomeno tutti e quattro questi personaggi quindi vediamo un po' cosa ne pensate avete ancora 20 secondi vedo che qualcuno si è unito al caout perché abbiamo dei numeri un po più altri rispetto a quelli che si erano collegati proprio all'inizio quindi sono contentissima così quando arriveranno le domande in cui dovete dire la vostra avremo delle nuvole di parole un brainstorming ricchissimo un secondo qua devo dire che la maggior parte di voi ha indovinato 26 hanno votato galileo galilei che effettivamente era la risposta corretta adesso andiamo anche a scoprire chi è galileo galilei non credo che abbia bisogno di presentazioni come anche gli altri che erano citati nel 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 nostro quiz lui è il primo che a cavallo fra il 1500 e il 1600 inizia a parlare di metodo scientifico e soprattutto soprattutto ad applicarlo in tutte le sue fasi durante i suoi esperimenti questo non vuol dire che prima di galileo non ci fosse metodo scientifico e non fosse fatta scienza ci sono tantissime scoperte importantissime che sono state fatte ben prima di galileo però quello che porta alla luce galileo e che come vi ho riportato qua fra virgolette oltre a osservare oltre a sapere la teoria è importantissimo fare esperienza quindi fare pratica cercare di capire come è composto l'universo cercando di capirne il suo linguaggio quindi se io voglio capire l'universo devo prima capire il linguaggio del dell'universo e galileo sosteneva che il linguaggio con cui si si raccontava l'universo posto linguaggio matematico e quindi lui diceva ok se io conosco questo linguaggio matematico posso imparare a conoscere l'universo utilizzando i mezzi che mi mette a disposizione e quindi lui era proprio a favore del dell'esperienza di cercare di accostare alle teorie quindi ai pensieri anche che venivano tramandati da secoli l'esperienza ovvero quello che può essere provato con quello che noi abbiamo qui a nostra disposizione che l'universo ci mette a disposizione come vi dicevo questo non vuol dire che prima di galileo non si facesse scienza e non si parlasse anche di un certo metodo scientifico uno dei quattro personaggi anzi uno degli altri tre personaggi oltre a galileo era leonardo da vinci che forse qualcuno di voi ha votato non ho notato quanti sono andati siamo andati su leonardo da vinci leonardo da vinci anche qui non ha forse bisogno di presentazioni è stato oltre a un grandissimo artista anche un ingegnere progettista e scienziato quindi anche lui si è dedicato alla scienza e lui diceva anche qui come vi ho riportato fra virgolette fuggi i precetti di quei teorici che non confermano le loro ragioni con l'esperienza quindi cento anni prima di galileo leonardo già diceva va bene io sono d'accordo col fatto che tu abbia una tua idea e tu voglia convincermi del fatto che la tua idea è quella giusta però se tu non me la provi con l'esperienza con degli esperimenti con delle cose concrete che mi facciano capire che la tua idea effettivamente corretta io non non sono disposto ad accettarla come tale e quindi anche leonardo da vinci diceva ho bisogno di vedere ho bisogno di esperimenti e di dati concreti che diano ragione alle teorie invece che vengono tramandate oppure che vengono enunciate da qualcuno quindi effettivamente anche con leonardo da vinci e già prima di lui si era iniziato a capire che l'esperienza quindi quello che si poteva provare con con mano attraverso esperimenti attraverso prove era effettivamente un valore aggiunto alle teorie tutto quello che veniva tramandato come teorico e basta perché leonardo da vinci non diciamo che inizi ad applicare formalmente il metodo scientifico perché in realtà intanto non aveva molti strumenti a disposizione per provare alcune sue teorie e soprattutto non ci sono pervenuti i suoi scritti quindi non sappiamo esattamente se alcune teorie lui è riuscito a a provarle effettivamente oppure no in chat ci chiedono in che anno è stato inventato il metodo scientifico allora diciamo che non c'è un anno in cui possiamo dire ok da questo momento esiste il metodo scientifico diciamo che con galileo e con tutta la sua attività di studioso ricercatore scienziato inizia poi a diffondersi quindi a più o meno a metà del 1500 1600 anzi più verso 1600 inizia a diffondersi l'idea che oltre alle teorie è importantissimo anche fare esperimenti che accompagnano queste teorie scrivere i dati annotare tutto quello che succede e soprattutto anche condividerli quindi lasciare degli scritti che le altre persone possano leggere possano valutare e sui quali possono lavorare anch'este quindi diciamo che non c'è un anno di invenzione ma nella alla fine del 1500 1600 inizia ad essere applicato da diversi scienziati da molti scienziati ok molto bene a questo punto io vi ho parlato di Leonardo da Vinci di Galileo Galilei abbiamo introdotto il metodo scientifico sappiamo che sono delle diverse fasi che devono essere applicate se io voglio fare esperimenti se voglio provare una mia una mia idea a questo punto per andare a scoprire quali sono tutte le fasi del metodo scientifico entriamo proprio nei panni dello scienziato quindi qua vi chiedo uno sforzo di immaginazione che secondo me avete quindi non deve essere neanche difficile io ho provato ad aiutarvi con alcune illustrazioni che ho trovato perché perché ci trasformiamo in scienziati e veniamo catapultati in questo momento nella Londra di metà ottocento quindi siamo dopo Leonardo da Vinci dopo Galileo ma ben lontani dagli anni nostri quindi facciamo uno sforzo di immaginazione qui siamo nella Londra appunto del del 1800 in particolare siamo a Golden Square che è una piazza all'interno di un quartiere che si chiama Soho è un quartiere in quel momento nel 1854 molto molto popolare molto più che altro popolato ci sono tantissime persone che vivono all'interno di queste case che vedete sono case abbastanza bassi 3 4 piani e all'interno di una stessa casa possiamo trovare diverse famiglie che vivono insieme vi chiedo di immaginarvi non solo come può essere visivamente una città del 1800 ma anche magari a livello di suoni che si possono sentire rumori della città che sono ben diversi da quelli che sentiamo adesso e anche a livello di odori chissà come sarà l'odore di una città del 1800 quindi facciamo questo sforzo di immaginazione per immergerci il più possibile all'interno del contesto 1854 siamo arrivati a Londra ad agosto quindi siamo in vacanza siamo a Londra a fine agosto fa abbastanza caldo è una un'estate abbastanza affosa e calda nonostante siamo in inghilterra quindi non ce lo aspettavamo però impariamo a conoscere un po il quartiere cerchiamo di girare per la città per imparare a prenderci un po a prendere qua conosce a conoscerla di più questa qui è anche una illustrazione di della Londra del 1800 vedete che ci sono tantissime carrozze quindi quando vi dicevo di immaginarvi il rumore di una città del 1800 sicuramente non abbiamo clacson no forse sì perché sulle carrozze c'erano le trombette però non abbiamo i clacson a cui siamo abituati non abbiamo i tram i pullman le macchine ma abbiamo le carrozze quindi immaginate il rumore delle ruote delle carrozze sul sul selciato sui ciottoli e il rumore ovviamente gli zoccoli dei cavalli come vedete è una città molto molto popolosa ci sono tantissime persone che vivono a Londra e in particolare nel quartiere di Soho e io vi dicevo che siamo arrivati nel 1854 ad agosto siamo in vacanza ma purtroppo capitiamo nel mezzo di un'epidemia quindi voi direte perché ho dovuto fare questo viaggio parto dal 2021 in piena pandemia vado nel 1854 in piena epidemia è andata così è andata così siamo arrivati a Londra durante un'epidemia di colera il colera è una malattia adesso andiamo a vedere che caratteristiche ha è una malattia che purtroppo in quegli anni ha fatto tantissimi morti a Londra soprattutto nel quartiere di Soho prima di dirvi quali sono le caratteristiche di questa malattia vi consiglio se già non ce l'avete sotto mano di prendere foglio e penna perché il nostro scopo il nostro obiettivo in questo momento sarà proprio quello di cercare di capire perché si è scatenata l'epidemia quindi il nostro obiettivo da scienziati è trovare la causa dell'epidemia ovviamente per poi trovare una soluzione e bloccare questa epidemia di colera che si sta diffondendo nel quartiere di Soho quindi dobbiamo prendere appunti come un vero e proprio investigatore dobbiamo muoverci per la città e dobbiamo annotarci tutte le cose che stiamo vedendo che stiamo osservando attorno a noi perché è importantissimo potrebbero darci degli indizi per trovare appunto una risposta alla nostra domanda ovvero ma da dove è partita questa epidemia quindi quello che vi ho detto magari se vi è rimasto qualcosa in mente di interessante appuntatevelo ma soprattutto ve l'ho detto in questo momento perché adesso vi faccio vedere il volto un'illustrazione in realtà di un malato di colera e quindi anche qui cerchiamo di capire ma che tipo di malattia è quali sono le caratteristiche di questa malattia ho bisogno di conoscerla bene se voglio trovarne una cura o una soluzione quindi se siete pronti con i vostri tacquini vi faccio vedere non sono illustrazioni molto carine effettivamente però sono illustrazioni dell'epoca che fanno vedere le vittime del colera quindi persone che hanno contratto questa questa patologia e che purtroppo sono sono morte a causa di questa patologia intanto guardo sempre tengo sempre d'occhio la chat quali sono le caratteristiche di chi contrae il colera visivamente forse non c'è bisogno che ve lo dica io ma si vede che queste queste persone hanno un colore abbastanza alterato della pelle quindi un colore blu astro violaceo e soprattutto hanno problemi di nausea vomito di arrea e di disidratazione tutte queste componenti possono portare purtroppo alla disidratazione allo allo shock e alla morte quindi non vi dico altro per ora però guardate bene queste queste immagini e soprattutto tenete a mente la tipologia di sintomi che hanno questi pazienti quindi vi ricordo nausea vomito e diarrea ok molto bene quindi noi siamo stati catapultati in questa epidemia siamo un attimo spesati ma per fortuna con noi abbiamo un ottimo compagno di viaggio che è john snow non so se avete già sentito questo nome se vi ricorda qualcosa scrivetemi in chat chi vi ricorda a differenza del john snow a cui penso a cui penso io lui sapeva un sacco di cose quindi non non era uguale all'altro john snow che non sapeva niente ma lui sa tantissime cose e della persona ideale con cui affrontare un'epidemia perché john snow ha vissuto a londra per moltissimi anni ed è stato un pioniere quindi ha fatto studi abbastanza nuove all'avanguardia nel campo dell'anestesia ma soprattutto dell'igiene in medicina e dell'epidemiologia quindi lui è esperto di epidemie quale miglior compagno di viaggio di john snow tanto vediamo se qualcuno ci chiede ma con l'epidemia in corso erano tutti in giro per strada effettivamente questa è una bella domanda in realtà no diciamo che forse quella era un'illustrazione pre epidemia oppure un'illustrazione che andava anche effettivamente a raccontare che cosa succedeva pensiamo anche solo al al panico di rendersi conto di essere nel mezzo di un'epidemia e di avere magari anche in casa parenti conoscenti che contraevano questa questa malattia e non si sapeva bene come trattarla quindi il nostro amico john snow ci dice non vi preoccupate indaghiamo insieme su questa epidemia io sono un esperto ci facciamo le domande insieme e cerchiamo la risposta insieme quindi siamo un po no forse un attore è forse un attore data l'interprete anzi no è un personaggio del trono di spade a cui veniva sempre detto john snow tu non sei niente è in realtà il nostro john snow che ha una h in più rispetto all'altro per fortuna è un grandissimo esperto perché la gente il disegno bruciava vestiti questa è una cosa molto interessante vi faccio un altro paio di considerazioni e poi ci dedichiamo alle domande proprio quindi john snow ci dice ok ma andate tranquilli cerchiamo di trovare la soluzione insieme non vi preoccupate vi porto in giro per strada vi faccio notare altre un altro paio di cose che potrebbero essere interessanti si fa sbirciare dentro una una casa e ci dice vedete e noi diciamo ma no in realtà non capisco gli dice guardate sotto i pavimenti delle case ci sono quelli che erano considerati pozzi che erano chiamati pozzi neri cosa vuol dire vuol dire che tutti gli escrementi che venivano prodotti naturalmente dalle famiglie venivano inseriti all'interno di questi pozzi neri che erano sotto i pavimenti del delle case e lui diceva si è capito in realtà che forse questo non è il metodo più corretto per smaltire gli escrementi e quindi si sta cercando di trovare un metodo un po più efficace e nel frattempo mentre aspettiamo questo metodo più efficace la municipalità di londra ha deciso di scaricare questi escrementi nei nei fiumi in modo da non tenerli sotto i pavimenti del delle case effettivamente è un'abitudine a cui noi non pensiamo abbiamo un sistema fognario e livelli di igiene molto alti ma nella londra nel 1800 non era così ok quindi abbiamo i sintomi di questa di questa malattia abbiamo anche il contesto in cui si è sviluppata questa malattia abbiamo alcune informazioni che ci ha dato john snow adesso vi chiedo ma vi eravate accorti che abbiamo iniziato ad applicare il metodo scientifico perché effettivamente abbiamo iniziato ad applicare il metodo la prima fase del metodo scientifico è quella che stiamo facendo adesso e quindi vi chiedo di tornare un momento su caout e di dirmi secondo voi qual è la prima fase del metodo scientifico quindi quella che abbiamo attuato in questo momento quindi da dove comincia tutto dal porsi delle domande da osservare il fenomeno dal cercare una spiegazione al fenomeno e dal fare esperimenti quindi anche qui vi lascio un po di un po di tempo per rispondere raccogliete le idee e poi scegliete la risposta corretta e un po mancano 25 secondi abbiamo già tantissime tantissime risposte 10 secondi più o meno in realtà sono 12 11 10 forse manca mancano un paio di risposte purtroppo se non rispondiamo tutti il tempo va proprio fino alla fine osservare il fenomeno perfetto io intanto sto leggendo la chat però sto tenendo le domande che mi avete fatto per fra pochissimo perché avete indovinato qual è la prima la prima cosa il primo step fondamentale del metodo scientifico ovvero osservare il fenomeno qui è una cosa che possiamo fare tutti guardiamo è una cosa che facciamo tutti tutti i giorni osserviamo guardiamo il mondo che ci circonda guardiamo l'universo come diceva galileo e lo osserviamo e magari notiamo che c'è qualche alterazione qualche cosa che non si comporta come dovrebbe comportarsi qualche cosa di strano come un'epidemia di colera che noi non vediamo tutti tutti i giorni e quindi da lì parte tutto il resto del metodo scientifico che cosa segue all'osservazione del fenomeno è quella che avete votato anche in tanti in realtà ovvero farsi delle domande quindi io sto guardando sto osservando quello che mi capita intorno però mi sorgono delle domande come sono sorte a voi quindi in base a quello che abbiamo osservato adesso è proprio il tempo di farsi delle domande quindi ritorniamo su caout facciamo un po di brainstorming in base a quello che abbiamo osservato c'è qualcos'altro che potrebbe esserci utile per cercare di capire da dove si è sviluppata questa questa epidemia guardiamo facciamoci domande su il sistema igienico sulle condizioni igieniche della londra di quella di quegli anni su quali sono i sintomi quindi ma non lo so colpisce quali parti del nostro del nostro corpo come viene diffuso possiamo farci un sacco di domande a che riguardano date che riguardano il quello che osserviamo la fase successiva infatti è forse delle domande ed è quello che chiedo di fare a voi quindi quelle che avete scritto in chat se volete riportarle anche qui brainstorming come prima avete due minuti a disposizione quindi avete un po di tempo per ragionare appunto chiediamoci sulla base di quello che abbiamo visto che cos'altro potrebbe potrebbe essere utile cercare quali altri indizi potremmo cercare immaginate proprio di aprire la porta di una di queste case e fare domande anche magari agli abitanti di queste case fare domande a chi è in strada fare domande a chi vive quella città quindi provate a immaginare un po che cosa potremmo chiedere io vi lascio di nuovo un po di tempo di in silenzio per rispondere e ne approfitto per bere un po d'acqua vedo che stanno arrivando un sacco di risposte quindi sono contenta avete avete un sacco di idee a riguardo state intervistando bene i nostri i nostri protagonisti per cercare di raccogliere più informazioni possibili anche perché ricordate il nostro obiettivo è quello poi di capire da che cosa è nata l'epidemia ok qui iniziano a comparire le vostre risposte che credo non verranno svelate finché non finisce il tempo cercheremo di guardarle bene o male tutte le scorriamo magari un po velocemente altrimenti vedo già che il tempo non non ci basterà 10 secondi quindi lanciatevi lanciatevi nelle risposte 3 2 1 ok adesso vediamo che cosa è uscito dalle vostre considerazioni intanto sposto tutte le ok qual era il focolaio della malattia come sono quando sono iniziati i sintomi chi diffonde la malattia come è nata l'epidemia che nazione ha contagiato ok quando è cominciata la malattia osservare i sintomi su una su una persona che ha preso la peste per primo non lo so adesso parliamo di colera come si è diffuso come si sviluppa quando ha avuto i primi sintomi e quali sono questa può essere una domanda interessante da fare chi a chi ha a chi ha contratto questa malattia quindi quando ha avuto i primi sintomi ci dicono che in realtà la malattia che si sviluppa molto velocemente nel giro di due tre giorni possono già comparire sintomi e posso iniziare a fermare ad avere nausea vomito diarrea e così via cerco di spiegare il fenomeno che da che quante morti ci sono stati come si è generata quanti morti ci sono stati nel momento in cui io e john snow e voi arriviamo a londra 1854 ci sono già stati 500 morti quindi sono tanti vedo che ci sono tante domande l'igiene nei luoghi comuni quindi anche questa potrebbe essere una domanda interessante ma nei luoghi comuni come sono le condizioni igieniche ad esempio non lo so al mercato quando vado a comprare il cibo o delle buone condizioni igieniche oppure quando vado a prendere l'acqua alla fontana come l'acqua della fontana c'è gente che si lava ogni giorno qua è molto interessante da dove viene l'acqua che bevete che alimentazione l'acqua che alimentazione avete avuto quale acqua avete bevuto se vi siete avete usato l'acqua del fiume questo è un'altra considerazione molto molto interessante a che livello era la conoscenza della medicina questo anche molto importante perché sì effettivamente iniziavano ad esserci già del c'erano già ovviamente gli ospedali c'erano già dei trattamenti per malattie conosciute ma in questo caso il colera non riusciva ad essere trattato e soprattutto non si riusciva a capire appunto cosa che dobbiamo capire noi perché era perché si diffonde questa malattia da dove nasce negli ultimi giorni avete notato qualche cambiamento nei vostri parenti ci dicono sì purtroppo sì il nostro parente da qualche giorno ha accusato mal di pancia ha tantissimo mal di pancia e ha iniziato purtroppo a non riuscire più a tenere dentro gli alimenti e quello che stava mangiando e bevendo quindi ha problemi di pancia chiedere che abitudini avevano gli abitanti che cibo mangiavano ok il quartiere tanto abitato è effettivamente sì ma non parliamo di covid dimentichiamoci del covid concentriamoci su un'altra bella epidemia le abitudini alimentari ok ci sono stati contatti con l'acqua foniaria questa anche molto interessante quanti sono gli ammalati in famiglia quindi anche questo è molto importante da capire quanti si sono ammalati ovvero dopo che c'è stato un primo ammalato si è diffuso il contagio o siete riusciti a isolarlo e siete riusciti a non ammalarvi ammalarvi potrebbe essere l'acqua sporca che bevevano quindi siete stati molto molto bravi perché fra tutte le domande che avete fatto che sono tantissime spero di averne letto una buona parte ma credo di sì devo dire che state andando nella direzione giusta perché e John Snow ce lo conferma John Snow ci dice ma allora io devo dirvi una cosa un'idea me la sono fatta avete fatto le domande giuste perché io credo proprio che visto che prenda prende la pancia questa infezione questa questa malattia io credo che sia qualcosa che sia stato ingerito e direi che anche voi avete fatto le domande giuste perché avete chiesto agli abitanti ma scusa qual è stata la vostra alimentazione qualche cosa avete mangiato che cosa avete bevuto può essere che avete bevuto qualcosa di strano può essere che avete mangiato qualcosa di strano come si è diffuso il contagio fra di voi quindi se rimanevate a contatto può essere che c'è stata una diffusione di questo tipo tutte queste domande che vi siete fatti sono correttissime e ci aiutano a formulare quella che viene chiamata ipotesi quindi siamo a questo punto stiamo formulando un'ipotesi da quello che mi avete detto l'idea più condivisa se non sbaglio è quella proprio che magari ci sia stato qualcosa che è stato ingerito e che ha causato questa malattia quindi adesso vi chiedo ok proviamo a formulare un'ipotesi quindi sulla base di quello che vi ho detto io sulla base di quello che anzi in realtà sulla base di quello che avete visto voi con i vostri occhi sulle base delle risposte che vi hanno dato i malati e i parenti dei malati di colera proviamo a formulare un'ipotesi ovvero secondo me il colera è causato da non lo so qualcuno di voi ha detto dal contatto con l'acqua foniaria mi ricordo che qualcuno l'aveva scritto oppure secondo me la causa del colera è questa qua e questa è la nostra ipotesi quella che dovremo a un certo punto provare con degli esperimenti quindi sulla base delle vostre domande sulla base di quello che avete visto con i vostri occhi e sentito provate a formulare un'ipotesi che può iniziare con secondo me ma anche no può anche essere il colera è causato da questa cosa qua durante l'epidemia gli abitanti come si sono protetti questa è un'altra cosa interessante vi faccio vedere alla fine quali erano le indicazioni date da jones no per proteggersi dal contagio e voi mi direte mi direte voi però ve le dico alla fine scusate volevo iniziare la votazione ma volevo farvi passare a formulare l'ipotesi quindi continuiamo a questo punto in base appunto alle vostre conoscenze quello che avete sperimentato proviamo a formulare un'ipotesi ovvero secondo me il colera è nato così secondo me la trasmissione del colera è dovuta questa cosa secondo me i servizi le carte le scarte condizioni igieniche hanno causato il la diffusione della pante dell'epidemia non pandemia quindi anche qui spazio alla alla creatività in realtà in base però a quello che avete osservato alle domande che avete posto ai malati ea quello che avete sentito e visto con i vostri occhi ok anche qui vi lascio un po di tempo perché sono sicura che sia forse la parte la fase più difficile soprattutto per chi si è collegato con un unico dispositivo perché mettere insieme tutte le idee proporre una ipotesi è difficile in realtà anche qui avete tre risposte cioè potete dare fino a tre risposte quindi se ci sono diverse idee in classe non riuscite a sceglierne una potete darne fino a tre diverse e vedo che anche quando vi state risparmiando perché abbiamo 30 32 33 risposte così via ok sono già talmente tante che abbiamo iniziato a mostrarle quindi sarà divertente anche leggerle tutte avete ancora 30 secondi qua il tempo non si ferma anche se avete risposto tutti perché appunto potete in realtà dare più risposte quindi potremmo andare avanti ad oltranza chiaramente se anche qui c'è qualcosa che non non siete riusciti a scrivere o volete argomentare meglio quello che avete scritto abbiamo a disposizione la chat e quindi possiamo possiamo discuterne tramite chat il colera era infettivo anche per gli animali questa mi è arrivata prima di domanda pensavo la rifaceste lì in realtà no che io sappia il colera perlomeno quello che era diffuso lì a londra non infettava gli animali ma il proprio l'uomo ok vediamo le vostre ipotesi cibo e acqua contaminata secondo voi l'acqua ingerita era sporca le strutture igieniche erano scarse acqua inquinata cattiva igiene scarsa igiene scarsa igiene dell'acqua acqua contaminata acqua inquinata acqua contaminata acqua bevuta di fogna acqua contaminata il cibo il tipo di alimentazione secondo me il colera è stato provocato dalla poca igiene ingestione di cibi contaminati cibi acqua sporca cibo non abbattuto giustamente noi abbiamo delle conoscenze molto avanzate sulla conservazione del cibo che nel 1800 non c'erano cibi contaminati cattive condizioni igieniche nel paese acqua fognaria si sviluppa perché si toccano o mangiano cose infette qualcuno in ciò che ci dice anche la gente quei tempi si lavava nel fiume quindi potrebbe anche essere dovuto all'acqua del fiume potrebbe essere l'aria contaminata dagli escrementi umani qualche cibo contaminato l'acqua del fiume cibi contaminati ok direi che provo a scorrere un pochino scontaggio con persone infette quindi dal contatto con persone infette secondo me frutta e verdura cibi non puliti sovraffollamento londra una città con uno scarso valore igienico dell'epoca ok cause igieniche infezioni degli animali acqua del fiume ok direi che diciamo le due idee principali sono tutte idee ottime e devo dire che siete stati molto bravi molto brave a seguire quello che stavate osservando quindi quello che vi stavano raccontando gli abitanti della città perché è importantissimo la fase di osservazione è fondamentale per poi farsi le giuste domande e formulare un'ipotesi che effettivamente potrebbe trovare una risposta perché se io non tengo conto delle cose che osservo rischio di formulare un'ipotesi di cui non troverò una risposta soddisfacente perché non tengo conto di quello che ho visto quindi secondo voi tramite o cibo o acqua contaminati mi sembra che la maggior parte si sia divisa così proviamo a ritornare sulla nostra presentazione e vediamo cosa ci dice john snow perché john snow ha fatto una cosa molto intelligente effettivamente siamo di fianco alla persona giusta è andato in comune e ha chiesto una mappa di soho quindi queste broad street la via centrale e ha cercato anche si fatto dare anche i nomi e l'indirizzo di quelli che erano morti di colera e si è messo a disegnare sulla mappina un rettangolino in corrispondenza di ogni morto per colera e lui che cosa ha notato ha notato che in tutto il quartiere di soho che in realtà si estende anche oltre a questa a questa piantina ma questa è l'unica che che ho trovato la le persone che purtroppo morivano di colera si concentravano soprattutto in una zona e ovvero questa zona qui ora non ho preparato una domanda per questo quindi potete rispondere direttamente in chat a questa domanda che cosa cosa c'è in comune fra tutte queste case in questa zona qua dovete guardare la mappa c'è indicato effettivamente qualcosa è scritto in inglese però secondo me riuscite anche a tradurlo tranquillamente o vi fate aiutare magari dall'insegnante tutte queste case qui che stanno soprattutto attorno a broad street che si estendono anche in questa zona qui che cosa hanno in comune quindi che cosa può essere stato a diffondere il la malattia in questa zona qui perché vedete che ad esempio allontanandoci qui e se avessimo una cartina più grande vedremmo che il numero di morti man mano che ci si allontanava soprattutto da broad street diminuivano di numero e quindi effettivamente la nostra la nostra epidemia la nostra epidemia era un po più contenuta ora non so se avete ce l'avete sulla lim condiviso non so se sia abbastanza grande quindi probabilmente non riuscite a non riuscite a leggere però insomma io vi circoscrivo quest'area qui vedete che anche l'area in cui ci sono stati più morti in assoluto c'è un qualcosa all'interno della nostra mappa che effettivamente potrebbe essere il responsabile del delle delle morti qualcuno forse dice molte persone che vivono vicini esatto la strada era affollata e in particolare vi dirò la strada era affollata c'erano molte persone magari anche nel nella illustrazione di prima il motivo era quello perché qua c'è una pompa d'acqua qua c'è scritto pump forse voi effettivamente lo vedete molto piccolo c'è una pompa d'acqua una fontana pubblica a cui tutti attingevano l'acqua soprattutto nella zona di broad street se vedete qua sotto c'è un'altra pompa d'acqua c'è un'altra fontana esatto qualcuno dice un solo pozzo per tutti esattamente in questa zona qui più in basso c'è un'altra fontana un altro pozzo da cui attingere acqua e quindi probabilmente le persone di quella zona non hanno contratto il colera perché la pompa che distribuiva acqua non era contaminata giustamente voi avete detto probabilmente l'acqua che ingerivano era contaminata john snow è raggiunto alla stessa conclusione quindi acqua secondo me l'acqua è contaminata secondo me il colera si si diffonde in questo modo a questo punto è arrivato il momento di fare l'esperimento esperimento che in realtà per john snow è stato relativamente semplice e un esperimento non del tutto completo diciamo però lui che cosa ha fatto ha pensato una cosa molto semplice in realtà ok ma quindi la nostra ipotesi è che in base a quello che mangiano che ingeriscono le persone si può sviluppare il colera come avete detto voi in particolare si può sviluppare secondo noi dall'acqua contaminata quindi vado alla ricerca della fonte d'acqua di broad street vedo che c'è una fonte d'acqua e che cosa faccio la chiudo quindi john snow ha fatto una cosa molto semplice che appunto non è che si può proprio considerare esperimento però che cosa fatto ha bloccato quella che secondo lui era la fonte d'acqua contaminata e ha cercato di capire se l'epidemia venisse arginata e a questo punto c'è la fase successiva del metodo scientifico ovvero ovvero la raccolta e l'analisi dei dati quindi john snow che cosa ha fatto ha preso appunti di tutto questo ha raccontato tutto quello che avete detto anche voi quindi le sue ipotesi ha raccontato del suo esperimento quindi detto secondo me la pompa di broad street è contaminata all'interno della della pompa c'è dell'acqua contaminata da qualcosa e quindi ho bloccato la pompa d'acqua e ho osservato il numero di casi dopo il blocco della pompa e che cosa ha visto ha visto che i casi andavano a diminuire e che l'epidemia finalmente riusciva ad essere contenuta quindi non ha trovato effettivamente una cura per il colera ma ne ha trovato la causa ed è arrivato alla conclusione in particolare aiuto non volevo passare già questa è arrivata la conclusione in particolare grazie tra l'altro a un reverendo della zona che è stato molto attivo anche in quel in quegli anni per cercare di contenere l'epidemia di colera e per cercare di capire da cos'era causata che cosa ha visto ha visto esattamente quello che avete detto voi ovvero che l'acqua del fiume contenente gli escrementi causava appunto veniva contaminata dagli escrementi e causava questa malattia lui ha visto che effettivamente la chi distribuiva l'acqua in quella zona prelevava l'acqua da una zona del tamigi molto inquinate contaminata e in più che cosa ha visto ha visto che all'interno del posto di broad street erano stati buttati dei pannolini quindi del dei pannolini pieni di escrementi che avevano contaminato l'acqua del posto di broad street e quindi a che conclusione è arrivato john snow è arrivata la conclusione che il colera è una malattia che si trasmette attraverso l'ingestione di acque contaminate da escrementi in particolare da feci umane quindi lui da partendo dall'osservazione di queste persone che avevano grandissimo mal di pancia è arrivato a concludere che questo mal di pancia fosse causato da questa dalla contaminazione delle acque in particolare se john snow fosse vissuto ancora un po più a lungo e avesse avuto a disposizione degli strumenti un po più all'avanguardia come microscopio se lui avesse analizzato le acque contaminate dal dagli escrementi umani avrebbe trovato all'interno di queste acque un batterio un vibrione che sono questi batteri con una forma a c a virgola e con una codina che gli serve proprio per muoversi nell'acqua che prendono il nome di vibrio colere quindi sono proprio i responsabili della trasmissione si trovano dove nelle feci umane quindi se io mangio cibi o bevo acqua contaminata da feci umane ho il rischio di ingerire anche questo microrganismo che mi causa poi mal di pancia mal di stomaco vomito di arrea e rischio di andare in disidratazione e morte quindi lui però aveva capito che questo agente contaminante era proprio contenuto all'interno delle feci come vi dicevo prima come giustamente mi dicevate voi anzi in chat durante l'epidemia come si sono protetti gli abitanti allora diciamo che quello che ha fatto john snow è stato stilare anche un programma di protezione o comunque delle linee guida che è un termine che anche qui abbiamo già sentito per contenere il contagio da colera e che cosa consigliava alla popolazione come consigliava di proteggersi john snow 1 lavandosi le mani e voi direte ma mi suona familiare questa indicazione chissà dove l'ho già sentita lavarsi le mani quindi una corretta igiene era fondamentale per contenere il contagio lavaggio ad alte temperature in particolare di vestiti e lenzuola del di persone infette qualcuno prima mi aveva chiesto perché la gente brucia vestiti in piazza probabilmente proprio per questo erano vestiti e lenzuola di persone che avevano contratto l'infezione e che quindi volevano essere eliminati proprio in maniera definitiva john snow diceva non è necessario bruciarli però è importantissimo lavare vestiti e lenzuola a temperature alte superiori ai 100 gradi quindi alte temperature in modo da sterilizzare quello che è venuto a contatto con il malato il malato deve essere isolato diceva john snow nel 1854 ovviamente garantendogli le cure necessarie quindi magari destinando una o massimo due persone alla cura del malato ma non tenendolo in casa con tutta la famiglia assicurarsi che la fonte non sia contaminata quindi cercare di capire da dove arriva l'acqua che beviamo nel caso del colera e se non riusciamo a capire se la nostra fonte contaminata o meno fare che cosa portare l'acqua a ebollizione quindi portarla a casa dal pozzo farla bollire a più di 100 gradi filtrarla e poi solo allora berla lavare il cibo come dicevate voi e far fare la quarantena che arriva da fuori particolare ho messo una nave perché lì erano i naviganti che arrivavano dall'estero da altri paesi quindi sono tutte indicazioni che non sono cambiate più di tanto in questi 200 anni e in epoca di pandemia noi abbiamo seguito esattamente le stesse indicazioni che dava nel 1854 john snow per proteggersi dal colera quello che diceva john snow che non vi ho ancora citato è che è importantissimo durante la pandemia avere una comunicazione aperta a tutti quindi se io capisco che è in corso una un'epidemia nella mia città io non so municipalità di londra o comunque io ente regolatore devo render conto a tutti i cittadini in modo che tutti siano informati tutti siano sullo stesso piano e abbiano le giuste competenze anche le giuste informazioni per affrontare al meglio la pandemia voi mi dicevate come sono riusciti a curare il colera non ci sono riusciti in questo caso però quello che è stato fatto dopo le scoperte di john snow e cercare di prevenirlo quindi cercare di migliorare le condizioni igieniche e avere dei piccoli accorgimenti per evitare che si presentasse un'ulteriore pandemia epidemia scusate di colera in realtà il colera ad oggi si tratta con un antibiotico perché è un batterio quindi si tratta con un antibiotico però ci sono ancora tantissime morti nel mondo dovute a questa malattia soprattutto in zone in cui i servizi igienici la qualità della vita è inferiore a quella cui siamo abituati noi concludo perché siamo andati abbastanza lunghi direi concludo facendovi vedere altre due cose fondamentali del metodo scientifico una è vera comparsa prima era una freccia che collegava l'esperimento alle domande ovvero se l'esperimento non funziona non è un fallimento semplicemente ritorno a farmi altre domande ma allora non ha funzionato perché non ha funzionato cosa potrei modificare rifaccio un'ipotesi rifaccio l'esperimento e vedo se funziona altri due step fondamentali del metodo scientifico sono la comunicazione quindi una volta che io tratto le mie conclusioni e ho sviluppato la mia teoria è importantissimo che io scriva tutto quello che ho fatto e lo condivida con gli altri della comunità scientifica in questo modo tutti ne sono al corrente e tutti possono lavorarci sopra quindi possono vedere ok ma che cosa ha fatto per arrivare a questo risultato se lo faccio io ottengo lo stesso risultato e questa è una cosa molto importante per affermare che un dato sia scientifico viene confermato anche in altri luoghi da altri scienziati in altre condizioni e tra l'altro non sempre non sempre i risultati che noi abbiamo ottenuto vengono confermati è importantissimo anche continuare a farsi delle domande ed essere sempre aperti al dubbio quindi ok io ottenuto un dato ma è possibile che questo dato se ho altre informazioni o altri dati venga modificato e quindi continuare a farsi delle domande anche su cose che diamo già per scontate per assodate è importantissimo ed è uno step fondamentale ulteriore del metodo scientifico non dar mai nulla per scontato e non dar mai nulla di certo proprio scritto nella pietra ok io ho terminato sono molto felice perché siete stati molto partecipi e avete tirato fuori delle ipotesi delle domande interessantissime spazio alle domande intanto guardo la chat perché vedo che sono arrivate altre domande e ve lo dico su vi rispondo subito se riesco a riaprire la chat che intanto mi si è ok mi si era mi si era chiuso tutto i miei dispositivi dopo un'ora e un quarto si stanno già ribellando allora qualcuno ci chiede quindi tuttora non c'è il vaccino per il colera allora sì c'è un vaccino preventivo ci sono anche degli antibiotici però noi tra l'altro siamo abituati a vaccini che hanno un'alta efficacia non sempre così c'è un vaccino per il colera però probabilmente non copre al cento per cento e quindi ci sono comunque moltissimi casi pensate anche a quanto è difficile fare una campagna di vaccinazione magari in paesi in cui non ci sono anche strutture sanitarie sparse su tutto il territorio quindi pensate in altri paesi anzi noi siamo abituati ad avere un ospedale ogni non dico quartiere delle nostre città ma più ospedali all'interno di un'unica città ci sono magari alcuni paesi che hanno uno o pochi grandi centri di riferimento ospedalieri e quindi è molto difficile far arrivare la gente all'ospedale per farla vaccinare oppure dall'ospedale partire e riuscire a coprire tutto quanto il territorio quindi è una una cosa molto difficile cercare di contenere queste epidemie in paesi purtroppo che non hanno le stesse condizioni che noi siamo fortunati ad avere qualcuno mi chiedeva anche se in italia sono apparsi casi di colera questa è una domanda molto interessante di cui non conosco la risposta perché non non so se ci siano stati casi di colera credo però che insomma le condizioni igieniche scarse fossero presenti anche nell'italia del settecento ottocento e che hanno favorito la diffusione di tantissime malattie che se non erano il colera erano malattie simili anche solo pensate la peste che si è diffusa perché le condizioni igieniche anche non erano particolarmente brillanti e qualcuno ci chiede anche quindi tutti i contagiati sono morti e nella maggior parte dei casi sì purtroppo sì perché appunto non si conosceva una cura e il colera se non viene trattato causa appunto queste forti scariche di diarrea e il vomito continuo che causa una disidratazione dell'individuo che non riesce più ad assumere e ad assorbire nessun tipo di nutriente necessario per mantenere in salute il corpo quindi sì ci sono stati tantissimi morti proprio per quel motivo perché effettivamente non si conosceva la causa e quindi a maggior ragione la maggior ragione la prevenzione in quel momento e capire come si diffonde una malattia come diventa epidemia è fondamentale per agire prima ultima domanda che mi è arrivata perché diventavano blu era a causa della disidratazione e dei tessuti che non riuscivano più a compiere il loro il loro compito erano appunto disidratati e non arrivavano ossigeno e nutrienti ai tessuti ok direi se avete altre domande cosa che è possibile che ci siano direi che vi consiglio di scriverci eventualmente quindi soprattutto se poi magari ripensate a questo webinar le cose che abbiamo detto rileggete gli appunti c'è qualcosa che non vi torna potete scrivere all'indirizzo info che ho c'è la scuola punto ai punti e cercheremo di rispondere a tutte le domande aggiuntive che sono arrivate io vi ringrazio tantissimo perché io mi sono divertita spero anche voi spero che l'abbiate trovato interessante la storia di jones no secondo me è interessantissima e ci sono tante altre cose che io non ho detto riguardo ma che potete trovare tranquillamente anche su internet in chat vi è stato mandato un questionario così se volete valutare quella che è stata l'esperienza che abbiamo fatto insieme potete farlo per tutto il resto appunto ci sono i riferimenti in quest'ultima slide del sito del canale youtube e dell'indirizzo mail quindi io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti e grazie mille